Oggi molti giocatori moranno e sarete voi a fare la differenza. Voi siete il fulcro, l'anima di questo corpo scelto. Aspetta soltanto a voi a decidere se vincere o se perdere. Siete pronti per la battaglia? Non lo sentite! Non lo sentite! Sperte, uomini! E ricordatevi, non sono mai le dimensioni che contano. Grazie!